Buonasera a tutti da Mr.Skett, come vi avevo promesso nel video precedente vi volevo fare vedere come ho sistemato il ventilatore, come vi ho spiegato nell'altro video, quello di ieri che ho pubblicato vi avevo detto che avevo sistemato il mio ventilatore in una pasta microponica, come vedete, ora ve lo faccio vedere, ecco qua, il ventilatore in un attenuto microponico, veramente che cosa ho fatto? Ho messo delle viti, delle viti, un durore, dove mi permette di girarlo oppure come state vedendo lo posso anche abbassare tranquillamente. mettendo in basso il ventilatore, con un'asta microponica mi sono fatto il mio ventilatore per su. Come potete vedere è una semplice aspa, non c'è niente di speciale da vedere, ho preparato un filo per collavarla alla corrente e tutto il resto. Questo qua è il mio piccolo ventilatore di testarlo per l'estate, già è stato sistemato e riciclato, ovviamente sempre con un trovato di ciclo e dato un'altra seconda vita a posto di buttarlo e messo qui che ora mi funziona e posso appassare tranquillamente l'estate con un po' qualcuno di fresco, posso mettere l'estate con un po' qualcuno di fresco e dove mi piace. Sempre se vi piace il video mettete un bitassio qua sotto, oppure gentilmente, oppure mi fate un commento sempre nello stesso saluto da Mr.Skynek e tutti i problemi del servimento di giornata. Bye bye. Ciao.